E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Valorant, sono i compagni di Costa Bella raga E oggi startiamo una buona competitiva La prima l'abbiamo vinta, nel episodio scolta l'abbiamo vinta, adesso vediamo Forse siamo in fase di run cup Spera Forse da Speruma andiamo a fermo Speruma 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 andu mafio dai Speriamo di non trovare americani, francesi, inglesi e russi Iniziamo a fare tossici Poi diventiamo tossici Io divento una testata per creare veramente Poi diventi anche te un rischio biologico Te lo sai se è il coronavirus Io sono Cernoville Ah diventa peggio che il virus T, pensa Il virus T E che virus Virus T, di Resident Evil Spiega un po' ai ragazzi di Youtube per chi non lo conoscesse E' un virus che trasforma in zombie Ad esempio Minecraft No, zombie, apocalisse Invece su Minecraft con dei zombie attacchi i villager I villager diventano zombie villager Vabbè Cosa che questa non la sapevo proprio Io prendo il mio handy hunter Troberò Ovunque si vada E poi continuiamo Aspettiamo Le prende jet Aspettiamo che star tu ma poi ragazzi poi faremo Ero track Ero track Ero track Capito o no? Lo capito eh Lo capito eh Lo capito eh Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti sempre Ok è buono No ho appena sboccato dentro tutte le trasporti Che spavento Ne si era bloccato il gioco Riportatis Rfk veloce Riportatis veloce veloce che la facciamo buttare subito fuori da partita La facciamo buttare ancora dai 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 Facciamo buttare ancora la gente Dai Riportati dish for Rfk Ultimo giocatore rimasto Non lo spugno di sfocco Svolte le due Oh mutiamo sto bimbetto Bimbo minchia Oh bimbo kebab e shut up Come si chiama il bimbo kebab? Il primo? Jaso Abuso verbale ti è Facciamo il bel verbale va Se poi le facciamo anche la molte Oddio non l'ha vista Ma è fk sto qui Non l'ha vista Non l'ha vista seggimi L'hai passata davanti nemico Fra fk Non lei Ah le bico Si Oh l'abbiamo buttata fuori Che tanto sta fottuta anche roba Non capisco come si sbloccano personaggi Però devi fare tanti punti Sono un ucciso Ecco Che il non prezende il troppo Succa suca suca Bello Succa suca Bello pure io vedo e l'abbiamo vinto momento concentrazione eh beh siamo bene ragazzi avete capito vabbò comunque ragazzi tra un po' arriverà anche un'altra nuova serie no spoiler non è non è mancraft aspetta che tipo è tipo simulazione non posso dirlo copriamo gli angolo veramente lo spoiler sarà detto nel prossimo video se questo video arriva 50 like arriva lo spoiler giuro che se la prossima partita lo dico qui eh se perdiamo questa partita io vi porto una partita se perdiamo questa partita cosa che non succederà ragazzi io te l'ho detto cosa io te l'ho detto giuro che se perdiamo una partita io mi scarico forte e faccio anche un video e lì sì che posso registrare da play posso registrare senza problemi che è e dove tipo la prima partita te sei lì ma come si costruisce quali sono i ma dai saprai giocarci no ma c'è dai tasti sul bowser se non è se non è facile se non è facile però se c'è i tasti su bowser già sono una bocode figurati a un batterolo e questa è questa è questa è questa è questa l'ultimo giocatore è rimasto non cominciamo non cominciamo non cominciamo non cominciamo non cominciamo operator operator time è anche corona time è corona time comunque ragazzi l'ho detto oh porca e vabbè è partito un colpo sorry ok proteggiamo la patria cosa ti dicevi? ti porterò una bella partitella la presa porca e facciamo rivederci è stato un piacere ultimo giocatore rimasto provo bene non lo spara bene resmi non mi devo piacere spiighi piazzata l'oro in seo window e freddo rotation e babbaro di barca trame si scarica le games poi diventiamo noi games play porca di una puttana eva bastarda lavica puttanica si pensi che gioco a forlake no ti giuro ti giuro per sto a caffettiere di computer fitte stramorte veramente guarda possibile tutte le volte che dico succede veramente volete farmi giocare a skiff net la cosa mi pizza comunque il mio personaggio può volare fra il volo no comunque adesso mi concentro attiviamo il cis che guarda mi guarda sto volando aboli bug fly lo trovo non è attivo stanno qua eh vai l'ho preso preso stanno intrando ma si quando sbagliarono ritori la cazzo agli anti città dei segnali uso di città c'è bisogna di bagliere qualche dentro dentro uso di città uso di città uso di città vuol più che altro uso di città io volo e bella si ma sto personaggio a parte volare lo fa bene si sono comperati di sempre tutti i round così no perché sennò non sono loro no stanno lì stanno lì vai no vabbè è improponibile ok sinistra occhio in bagni basta scherzare ora muori costa occhio in bagni occhio in set colpa 2 ultimo giocatore va bene che babbo che ho più le cause poi si dice rubare porca tre chiervigliere mi chiesto così cazzo che viene eh no vabbè non muore c'è 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 la c'è 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 non mi scappi e vattene non attraverso flash guanese toilet la pedacca questa continua ad aprirci gli occhi ha visto come è venuto a prendere e difatti tanto bari vara di città giusto dovrebbe interiore parola che nel lato partita era una mia partita prima quando giocavamo al portiamo almeno un nemico con noi non c'è nessuno fantastico per piccare è mortale l'ultimo giocatore di what no vabbè va il portale veramente sto qua non muore o al massimo non è veramente applica una cosa forte veramente c'è una cosa assurda questa ci ressasse una buona volta no vabbè guarda guarda come faceva a sapere che era lì le porte io aveva qua dove staglia bid questo gioco vabbè tra l'idea è fk va bene ci può pensare qualcuno respiri profondi fuori dai piedi mi mi ho avvisato prunzo aiuto adesso io ora che c'ho il cecchino oh vabbè dai e questa se tretti una spiantata ma anche ha un solo nemico non è non è c'ho paura vado 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 c'ho paura la wear it 5 c'ho la lame perché perché ogni volta che pitt c'è neanche pittavo ogni volta che mi rascia ti riporta anche direttore occhi sempre aperti ma perché per cosa che gli hai riportati te ok non è non è che squadra in squadra da stanno dove siamo non ucciderai ultimo giocatore rimasto guarda questo qua cambiava fra quello di cambio di due secondi l'arba prima c'è l'operator poi c'è il pop poi c'è il fight e il back non lo vanna certo migliore con le hack tanto sti qua non vanno i campionati mondiali inutile tutti silver 1 guarda cosa guarda farò uno però sembrano tutti globaleri di più basta basta che c'è un bordello c'è uno ciao un altro porto al senso da tirati ma è forte a se ne sono andati da piazzata elettore del porto teletrasporto da piccare do piccare guido aiutami però guarda dentro il cuore immortale insieme siamo più forti davvero capace ce l'avranno fatto assurdo può fare casino perché si sente tanto ci sente lo stesso è inutile sa dove siamo guardateo per trasporto dire solo guarda dietro mi raccomando guardate tutti davanti sono andati via la E' un po' più forte. E' un po' più forte. Uff! 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 Dov'è? Eeeh! Te le tre! No! Mi spiace, bel pozzino! Ma che possa cambiare? Ma è ancora, ne? Ma li hanno disattivati ora! Guarda che sono appena abbina! Ma no, ma di fatti! Guarda che cosa, no? Ma va, questo video, badiamo, badiamo nella RIT Games Aspetta, i nobi, fagli... Fagli vedere i nobi Vai! Aspetta che sta lì sopra Ah, perché adesso non sta lì sopra? Stanno, sta dentro il tunnel Il fuoco si aspetta! Cosa avete salvato tutti? Dietro, dietro, dietro! Ah, va bene, scappate, no? Widow, Widow! Stanno tutti, Widow! Get out the Widow! Get out the Widow! E che laturo, per cazzo! Vai lì! Dove lo sparagli? Lo ti prende! Perché gli hai sparato? Ah, quello! Lo ti prende! Lo ti prende! Lo ti prende! Lo ti prende! Aspetta che ricarica! Ah, va bene! Dai! Vabbè, quello è sempre airshot! Comunque! Sta qua sempre fai airshot quando vede qualcuno! E non muore! Vabbè, comunque... Abbiamo detto questo cavolo che si è inserita Adesso Sappiamo che rip象 this one! Però una sola partita, poi allora came il Disney Stamil, 되고! Chiaro! Quanto pesa? L'annzito è diapprovo. Eh, in totale è 80. Allora, quanto pesa il gioco? Quanto pesa il gioco? Quanto pesa il gioco? Quanto pesa il gioco? Il totale, è diитone 100. credo aspetta la per costo 80 mega il gioco il gioco dopo non lo so che conviene scappare 10 no assurdo da città città stavolo è morto a perché ha fatto si è ancora beh vabbè guarda qua match point insieme li seppelliremo nei loro peccati ragazzi e spero che questo video vi è piaciuto smettendomi un commento soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per poter seguire altri nuovi video quindi ragazzi se ce la fate comunque io cusci uno poter farà scena e che ho comprato tanto 104 in 10 va beh hanno cambiato addirittura robe per portare non è morto ma non muoio è inutile carnicina di squadra non muoio vittoria dei difensori ragazzi io vi saluto a casma tutto ciao a tutti aspetta un attimo costa che viene sul discord ok ragazzi un attimo solo che adesso devo fare devo fare una cosa chiamiamo costa su discord così lo sentiamo attiviamo la condivisione dello scarbo aspetta che vi scrivo ragazzi eccoci qua sulla chiamata aspettiamo costa che viene e poi finiamo 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 il video in bellezza costa mi senti ok ci vedi si ok quindi andiamo su internet lo sto facendo la diretta nel video ah attenzione signori sarà l'ultima volta che vedrete questo gioco sul canale non è questo l'unica volta perché fanno la collaborazione con cosa fanno la collaborazione sti qua fanno la collazione sti qua che cazzo mai fatti tu inizi ad andare a sapere perché tra un po' si gioca parca di quella puttana e per me ce la fai scarica dentro stanotte tranquilli ho fatto scaricare tanto un minuto si fa tutto ragazzi sapete guarda già le picche launcher la mia norma la mia norma no lo faccio davanti a te costa non mi interessa no da me non mi interessa comunque se lo vedi fatto da me non lo vedrai mai più ci siamo capiti vero? ahah questo video diventerà epico infatti comunque adesso andiamo su questo qua 42 mega 22 minuti provasi serio è migliore tant'esso chiedo il video lo faccio in diretta non mi interessa costa anzi più che altro se mi ricordo dei credenziali oh lì è il problema ma che vado ripristino tutto intanto ah boh ragazzi iniziate a salutarvi perché moh terra iniziate a tutto quanto vapo attenzione comunque non mi sembra questo il launcher ufficiale no perché era tutto nero non metà nero e metà bianco aspetta questo era installer e l'installer era diverso ragazzi spero che questo vi sia piaciuto e mettiamo in un bel commento e vaffanculo facciamo questa partita è merda questo gioco è merda lascia stare a casa un bacio e un abbraccio ciao a tutti grazie a tutti